Avete sentito l'ultima? Chiara Ferragni ha appena lanciato una frecciatina clamorosa a Fedez su TikTok e il web è impazzito. Volete sapere cosa ha detto? Rimanete con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi altre news succose. Chiara Ferragni non smette mai di sorprendere. Dopo il post su Instagram davanti al busto di Napoleone, l'influencer ha colpito ancora con un nuovo video su TikTok diretto a Fedez. L'audio del video recita. Poi, all'improvviso ho smesso d'amarla, da un'ora all'altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo. Alle nove e tre quarti non me ne importava più niente. Era finita. Ero guarito. Mentre Chiara mima le parole con un'espressione divertita. La caption Uomini lascia pochi dubbi su chi sia il destinatario di questa frecciatina. Un recente studio sostiene che per superare la fine di un amore ci vogliano 15 mesi e 19 giorni. Se fosse vero, Chiara avrebbe ancora molti mesi di frecciatine da lanciare. Le reazioni dei fan sono state contrastanti. C'è chi la sostiene, chi trova il video ironico e chi lo giudica imbarazzante. Ma cosa si cela dietro questa provocazione? È solo una frecciatina o una mossa strategica per tenere alta l'attenzione mediatica? Chiara Ferragni sa come far parlare di sé. E anche questa volta ci è riuscita alla grande. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati su tutte le novità. Non dimenticate di lasciare un commento con la vostra opinione su questa frecciatina clamorosa di Chiara Ferragni a Fedez.